le attention war quelle che vogliono ricevere attenzioni e che diciamo così sono tra virgolette quelle poco diciamo così vestite dal punto di vista fisico barra estetico oggi mi trovo qui perché voglio trattare con voi cari esemi utenti di youtube l'argomento relativo alle cosiddette attention war è un termine che è stato creato secondo me da profeta isaia l'utente che mi ha richiesto gentilmente di realizzare questo video innanzitutto io non ho mai avuto a che fare nel corso della mia vita nella mia esistenza con questo tipo di donne con questo tipo di ragazze delle attention war così vengono chiamate qui non ho mai avuto a che fare con loro però dovendo andare a esaminare le due parole in questione traducendo in italiano significa proprio war significa ragazze di strada quindi ragazze che fanno il lavoro più antico del mondo attention immagino che sia traducibile in italiano con la parola attenzioni attenzione quindi le donne che stanno in strada e che vogliono ricevere attenzione probabilmente sono dei fenomeni femminili che si trovano sul web magari vogliono effettivamente ricevere delle attenzioni e a volte lo fanno perché magari vogliono avere più fama perché vogliono avere più visibilità perché magari non hanno un successo nella vita di conseguenza non avendo un successo nella vita non avendo visibilità non avendo fama non avendo charme o meglio non avendo diciamo così qualcuno o qualcosa con cui avere a che fare ecco che si mettono nella condizione di voler ricevere a tutti i costi le attenzioni di qualcun altro che può essere un uomo ragazzo o un'altra persona di genere maschile ecco io credo che ce ne siano non tante di donne di questo tipo sono sincero quelle poche che esistono non sono secondo me persone di individuabile fama non sono individuabili è abbastanza complicato riuscire a le vuoi per motivi di intuito vuoi per motivi di relativi a oggettive difficoltà e non soggettive difficoltà vuoi anche però per altri motivi che non sto qui a elencare va bene qui diciamo che i motivi possono essere tanti possono essere più disparati ecco io faccio questo video perché ieri sera lo dico subito c'è stata una live sul mio canale di youtube e noto con dispiacere che a volte si vengono a creare dei momenti brutti tristi tra un utente e l'altro tra un personaggio di youtube e un altro ecco io chiedo a tutti di essere gentili rispettosi l'un l'altro l'altro verso l'uno l'uno verso l'altro di non litigare io vi chiedo espressamente di non litigare se dovete confrontarvi fatelo ma senza litigare quindi no ai litigi no al litigio no allo screzzio no agli screzzi sì al confronto sì al dialogo sì alla chiacchiera no alla allo scontro no al vitupero alla vituperazione quindi chiunque d'ora in avanti si azzarderà a creare lotti lotte o guerre che dir si voglia bene si avviderà con me ed io andrò a bannare questa volta mi impegno a bannare quindi volete stare in live bene rimanete siate persone educate rispettosi non vi fate le guerre e soprattutto cercate di essere gentili verso tutti perché perché i dissing non servono a niente i dissing li fanno i cosiddetti influencer cioè quelli che hanno una marea di iscritti quelle che hanno almeno milioni di iscritti di conseguenza vi chiedo di evitare di fare questo grazie grazie a tutti dal vostro leandro conoscitore italiano grazie a propria deseglia che ha donato donare è un'azione bella potete potete fa può farla chiunque nessuno escluso e sentitevi liberi di farla perché per me è qualcosa di utile e di piacevole da ricevere va bene grazie a tutti da leandro conoscitore italiano di youtube italia iscrivetevi al canale a prossimo video